benvenuti sul canale oggi vorrei parlare delle armoniche delle frequenze armoniche ma delle frequenze armoniche relative al nostro mondo al mondo dell'audio mondo della i fa e mondo dell'audio professionale le frequenze armoniche sì perché le frequenze armoniche armoniche in generale riguardano campi vastissimi e lontanissimi totalizzanti cioè riguardano la matematica riguardano la fisica ovviamente riguardano la composizione l'armonia e composizione materia di studio e conservatori arrivano persino alla filosofia e addirittura alla religione per chi ha studiato pitagora il filosofo matematico di crotone ma io ovviamente voglio rimanere all'interno del nostro mondo e quindi spiegare come le armoniche intervengano nel suono dell'audio nella differenza tra un bell'impianto e occantivo impianto nella definizione degli mp3 perché fanno bene perché vanno male nella differenza tra il suono degli amplificatori a valvole quelli allo stato solido nella differenza tra uno strato caster e una telecaster sì perché tutto questo ha a che fare molto altro ha a che fare con le frequenze armoniche vediamo quindi di cosa si tratta quando parliamo di armoniche le armoniche dice il libro sono le frequenze multiple di una frequenza fondamentale andiamo in soldoni una frequenza la conosciamo ne sentiamo due e dovete sapere che nel mondo fisico nel pianeta terra e probabilmente nell'universo i suoni puri e frequenze pure non esistono ogni suono non è mai una frequenza pura ma è composta dalla frequenza che abbiamo appena visto ed è suoi multipli quindi un suono a 100 hertz avrà anche il 200 hertz il 400 l'ottocento e 600 tutte le frequenze multiple pari e dispari della frequenza fondamentale quindi moltiplicata per uno per due per tre per quattro per cinque e via dicendo e guardate bene questo è vero per ogni suono per qualsiasi suono nel definire un suono si riconoscono fino a 16 armonici in realtà sono molti di più ma fino a 16 sono quelli che tradizionalmente vengono considerati come più che sufficienti per definire un suono un suono che a questo punto arricchito da tutte queste armoniche diventa un timbro cioè i suoni che tutti quanti conosciamo vi faccio subito sentire e vedere una cosa ecco quello che state vedendo è la rappresentazione grafica delle armoniche relativi a vari strumenti musicali sul lato alla vostra destra potete vedere per ogni strumento la frequenza fondamentale man mano che si sali vari armonici che si che completano il suono e lo differenziano da tutti gli altri come notate queste frequenze armoniche ci sono sempre sono man mano decrescenti ma sono comunque in quantità diverse l'uno dall'altra vi lascio ancora un attimo per sentire qualche altro esempio ecco ma è possibile che quando sentiamo due strumenti siano gli armonici a fare la differenza tra un pianoforte e una trombetta sì sono proprio gli armonici a fare questa differenza se anche se sembra impossibile come sembra impossibile che siano tra i colori di base del nostro televisore a led a ricreare quegli splendidi film che guardiamo e come sembra impossibile che siano sette i colori dell'universo come sette sono le note guarda caso mescolando i quali otteniamo tutto quello che vediamo figuriamoci se questo non è possibile dosando ad libitum i vari armonici rispetto alla fondamentale c'è da aggiungere che nei vari strumenti in realtà oltre le frequenze armoniche ci sono anche vengono anche sommati dei rumori ad esempio il suono di un flauto anche il soffio ecco la differenza tra un suono e un rumore potrebbe essere questa anzi questa nel in un suono le frequenze armoniche sono tutte di ordine finito quindi 2 3 4 5 6 7 nei quindi armoniche fra loro questi questi armonici nei nei rumori invece questi armonici sono numeri non finiti quindi possono essere frazioni virgole ordinati in modo casuale tant'è che non ottengono un suono armonico ma un rumore ancora sembra impossibile beh allora vi canterei qualche cosa un sol sol salsi sul se la nota è sempre quella stonata quello che cambia è la vocale ovviamente ma realtà sono gli armonici prodotti dalla mia bocca che fanno la differenza tra un sol e un sil e sono ancora le armoniche che fanno la differenza tra i tre tenori pavarotti placido domingo e carreras quando cantano insieme ma si riesce a riconoscere la differenza tra l'uno e l'altro nonostante nonostante eseguono lo stesso spartito musicale quando sono assieme questo quindi vale sia per gli strumenti che per la voce dell'uomo dicono che la voce dell'uomo sia lo strumento più difficile da riprodurre io penso non sia vero ci sono strumenti che sono più ricchi di armonici rispetto alle corde vocali di un uomo un pianoforte ha un numero molto più alto di di corde che vivono noi di armonici ma perché quindi così critico perché siamo abituatissimi perché il nostro cervello è abituatissimo a sentire la voce umana noi per 18 ore al giorno diciamo sentiamo voci umane gli amici parenti televisioni e forse solo per 10 20 minuti sentiamo il suono del pianoforte quindi siamo assolutamente allenati allenatissimi ad ascoltare la voce dell'uomo e siamo super critici in questo campo non è più difficile di altri è solo il nostro cervello che la conosce molto meglio in tutti i suoi armonici vogliamo vedere il grafico di prima degli strumenti ma relativamente alla voce ha dello stupefacente guardate ora sentiamo solo qualche armonico dei tanti che compongono la voce ora completiamo la serie armonica verso il basso la voce adesso è riconoscibile ma se aggiungiamo le armoniche superiori finalmente questa è una bella voce appena abbiamo giunto le armoniche superiori che in realtà in questo esempio non vanno così in alto la voce da riconoscibile diventa finalmente una bella voce ed ecco forse spiegata una delle differenze tra l'ascolto di un impianto o dell'altro impianto di come mai uno risulta piacevole l'altro no probabilmente la maniera di riprodurre anche e soprattutto il suono nella sua completezza delle armoniche soprattutto verso l'alto che salgono veramente tanto sono quelle più difficili da riprodurre in maniera non distorta quando parliamo di armoniche alte stiamo parlando di suoni veramente minimi veramente a volumi molto bassi a frequenze estremamente elevate ecco perché spesso critichiamo un impianto e magari lo stiamo solamente ascoltando in una zona che ha un grosso rumore di fondo al quale l'orecchio si è abituato ma che copre fa da mascheramento proprio per quelle armoniche esilissime che avete appena notato quanto fanno la differenza tra un suono e l'altro quindi un'altra delle variabili del quale raramente sento parlare quando si parla di ambiente d'ascolto e che ci dovrebbe essere l'assoluto silenzio sempre se stiamo parlando di ascolto ad alta fedeltà se stiamo cercando l'intrattenimento la piacevolezza inutile farsi tante pippe e a questo proposito vorrei accennare proprio al suono delle degli amplificatori a valvole di amplificatori a transistor ci sono come sapete gli ultras degli amplificatori a valvole che giurano che gli amplificatori a valvole suonano meglio degli altri magari è anche vero ho notato io stesso una certa piacevolezza sicuramente dovuta al fatto di vedere questo focolare acceso ma probabilmente ancora una volta a che fare con le armoniche si dice che gli amplificatori a valvole esaltino di più le armoniche pari che sono quelle più piacevole l'orecchio rispetto alle armoniche dispari e addirittura che distorcano quando distorcano creando creando loro volta armoniche sempre di ordine pari non di ordine dispari la distorsione di un amplificatore una cosa molto particolare e non ha detto che sia spiacevole perché ci sono degli esempi in cui la distorsione è ricercata gli ampli per chitarre le chitarre distorte cercano assolutamente la distorsione e la trovano soprattutto con gli amplificatori a valvole che come abbiamo detto distorcono volentieri con armoniche di ordine pari quindi la seconda la quarta la sesta l'ottava e via dicendo ma ancora parlando di armoniche di ordine molto elevato come la mettiamo con l'udito di quelli della mia età quindi gli ultra cinquantenni che sappiamo per sicuro hanno un dito che ormai è andato rovinando se non sente più frequenza di sopra dei 15 13 12 11 mila hertz come la mettiamo quindi con l'ascolto di queste armoniche così elevate vorrei però ricordare una cosa i nostri sensi sono sì eccitati dai nostri organi sensoriali quindi le orecchie il naso la bocca del timpano e via dicendo ma sono elaborati da una cosa che noi umani abbiamo che si chiama cervello al quale questi organi sono collegati se io mi trapianto le orecchie di un pipistrello e do le mie a lui non mi metterò a mangiare falene da un momento all'altro visto che le sento né lui andrà a sentire il concerto di santana visto che ha le mie orecchie perché il cervello che elabora i dati che abbiamo intorno a noi e che ha un'azione non importante totalizzante rispetto alla sensazione del mondo che ci circonda quindi voglio essere di sostegno agli oltre cinquantenni dicendo due cose il primo che le armoniche come abbiamo visto vanno comunque a modificare la forma d'onda ecco qua infatti una forma d'onda nella sua complessità quando vengono sommate tutte le armoniche anche quelle altissime quindi le armoniche alte comunque modificano una certa maniera la forma d'onda e noi in qualche maniera la sentiamo magari non solo con i timpani ma vorrei tranquillizzare diceva i cinquantenni perché il nostro cervello ha una memoria tale a una sensibilità tale che riesce a riconoscere cose anche grazie a meccanismi neuronale che potremmo chiamare esperienza mi spiego meglio se facciamo assaggiare un vino a un 25 n con il senso del gusto intatto gli chiediamo di cosa si tratta probabilmente farà fatica a capire se si tratta di vino rosso vino bianco se fate sentire a un degustatore di buone bottiglie ultra cinquantenne un bicchiere di vino probabilmente sarà in grado di dirvi nonostante il suo gusto si sia man mano affievolito le sue papille si siano rovinate sarà in grado di dirvi che si tratta di un cabernet franc rispetto a un cabernet sauvignon perché sente una nota di peperone ecco questa è l'esperienza che questo signore ha accumulato in tutti questi anni a furia di degustare vini che gli permette appunto di elaborare i pochi dati che gli arrivano in maniera in una maniera decisamente più importante rispetto a chi di dati ne ha pochi quindi non si preoccupano gli altri cinquantenni e non si preoccupano i ventenni che prima o poi diventeranno cinquantenni è vero che le nostre capacità uditive caleranno ma le nostre capacità critiche rimarranno le stesse né bisogna fare come ha suggerito un mio collega youtuber decisamente simpatico che però dice che l'impianto i fi deve adattarsi alle caratteristiche di chi lo ascolta così come le scarpe quindi l'impianto i fi per un anziano deve avere le frequenze che si innalzano a compensare la perdita dell'udito vorrebbe dire in questo caso che io ascolterei santana dal suo disco meglio che se fosse qua santana in persona suonarmi vorrebbe dire che io ascolto la mia voce registrata meglio di quello che la mia voce è nella realtà no un impianto di amplificazione deve a qualsiasi età cercare di riprodurre la realtà perché io in questa realtà vivo anche se non la sento completamente come te vivo nella stessa tua realtà io tu giovane 25 anni e l'impianto che tutti e due abbiamo abbiamo appena visto quanto è complessa una forma d'onda di uno strumento ricco quando viene arricchito di tutte le armoniche che lo compongono e c'è una scienza c'è una formula matematica che tenta anzi spiega esattamente il comportamento di queste onde si chiama la trasformata di furie non ve ne parlo ovviamente ma sappiate che queste forme di onda complesse rie arricchite di armoniche sono prevedibili si tratta di numeri così come probabilmente è fatto di numeri tutta la realtà che ci circonda come diceva vi raccontavo prima e pitagora ma come tutti i fisici ci posserebbero raccontare con le loro formule ecco allora abbiamo detto che questa trasformata di furie riesce a creare a montare e a smontare le forme d'onda in tutte le loro armoniche perché ve ne parlo perché questa capacità è alla base della compressione degli mp3 mp3 o i formati complessi sapete che non sono altro che il suono originale che se fosse registrato occuperebbe un chilo di memoria invece i dati vengono tagliati vengono ridotti a mezzo chilo o addirittura un eto tagliando quelli che sono i beat meno significativi lasciando solo i beat più significativi che richiamano comunque brano originale chi decide che cosa sono i beat più significativi o meno significativi e proprio anche la trasformata di furie che cosa fa riesce ad individuare quali sono le armoniche più alte quindi eliminabili riesce ad individuare quali sono i suoni agli estremi di banda ancora togliendoli riesce ad individuare quali sono i suoni al di sotto di una certa solida di udibilità e quindi li toglie alla fine togli qua togli l'acqua che cosa rimane lasciando un suono molto soggetto a critiche ma estremamente comodo ed utilizzato quotidianamente da miliardi di persone ed ecco che ancora una volta le armoniche entrano nei nostri discorsi quotidiani ma allora è proprio vero che la musica sono numeri e questo discorso delle armoniche che sono non sono altro che funzioni matematiche fra di loro che alla fine vanno creare un timbro diverso tra pavarotti e plassido domingo e sono riducibili a numeri è probabilmente sì e probabilmente il digitale non è una cosa così sbagliata e probabilmente forse ancora presto quando la capacità di calcolo di cui gli umani sono capaci continuerà ad aumentare si arrenderanno anche più riducibili rendendosi conto che il mondo è numero che la realtà è numero ma qui stiamo entrando in un altro campo che è la filosofia e solo con la pistola alla testa mi obbligarete a parlare di questi argomenti e se avete in tasca una pistola tiratola fuori a presto